Ti piacciono i video di animali a liatofine? Allora ti trovi nel posto giusto! In questo video di Animalpedia ti raccontiamo la storia di Bruiser, un cane scomparso per due mesi e miracolosamente ricongiunto con la sua famiglia. Siete pronti? Bruiser, il protagonista canino di questo video, era scomparso da due mesi, quando Jamie, che si prendeva a cura di lui, ha ricevuto una telefonata dal Highlands County Animal Control, che le informava che avevano trovato il suo cagnolino. Rapidamente è andata a cercarlo, insieme al marito, e ha deciso di fare una sorpresa al figlio Tyler. Lo ha aspettato a casa con Bruiser, il suo migliore amico quadrupede, che aveva ormai dato per perso. Day ha un'occhiata alla simpatica riunione. Sia Tyler che Bruiser non riescono a contenere la loro eccitazione all'incontro di nuovo. Bruiser non riesce a smettere di scondinzolare e saltare sopra il suo migliore amico, mentre Tyler lo abbraccia piangendo per l'emozione. Jamie, la madre della famiglia, ha affermato che Bruiser era scomparso da due mesi e che la famiglia stava cominciando a perdere la speranza dopo settimane di tentativi di localizzarlo. La famiglia aveva cercato in tutti i modi di ritrovarlo, postandolo centinaia di volte su Facebook, mettendo vestiti con un odore familiare al cane vicino alla loro casa e pubblicando annunci sui giornali della città, che riportavano la scomparsa di Bruiser offrendo una ricompensa. Senza dubbio non possiamo immaginarci un miglior lieto fine. Dicci, cosa ne pensi di questa storia? Faccelo sapere nei commenti. Alla prossima! Ciao!